Dopo gli ultimi episodi della stazione, qui alla stazione di Boscolare, abbiamo cominciato a rinforzare un poco tutti gli infissi. Siamo stati in Prefettura, siamo stati risultati dalla Prefettura che ci ha assicurato la vicinanza dello Stato, quindi speriamo che a breve arrivi l'aiuto delle istituzioni. Stamattina, oggi e domenica, siamo qui con un amico nostro che anche altre volte ci ha aiutato a ripristinare gli infissi e questa volta stiamo rinforzando un poco tutte le strutture per fare in modo che non ci siano facilmente anche con l'angio di vetro le rotture. Abbiamo riparato l'infisso attraverso il quale qualche mese fa, nel mese di luglio, sono penetrati, hanno fatto un furto, hanno rubato un po' le offerte dalla cassetta e adesso abbiamo ripristinato, abbiamo fatto in modo che sia più protetto questo lato, dobbiamo completare con la chiusura degli intonaci. Grazie. 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 Grazie.